Millon Day e Millon Day Extra, le estrazioni venerdì 9 giugno 2023 vincenti sulle gol in tempo reale.2 le estrazioni giornaliere, prima alle 13 e la seconda serale.Million Day il gioco che ti permette vincere un milione euro indovinando i 5 numeri vincenti.L'extra è seconda possibilità mettere in corsa giocati.Per fare questo, necessario aggiungere un euro alla puntata. Millon Day e Millon Day Extra, le due estrazioni di venerdì 9 giugno 2023 i numeri vincenti di oggi Sivin Snutto Super Enalotto, l'estrazione di mercoledì 7 giugno 2023 i numeri vincenti.